Ci troviamo qui a Roma presso la Fondazione Don Luigi Sturzo in occasione della presentazione di Esplorare, un'iniziativa molto bella incentrata sul tema delle malattie rare realizzata congiuntamente da Sencora Farmalex, una società di consulenza impegnata nelle scienze della vita e da eSport Italy Rom Chapter. Ci facciamo raccontare di che cosa si tratta, qual è stata l'evoluzione del progetto nelle sue due edizioni, da Chiara Lucchetti, Patient Access Head di Sencora Farmalex. Dottoressa Lucchetti, innanzitutto le chiederei come è nato questo progetto e come si è voluto dall'Esplorare 1.0 al 2.0 che è l'edizione di quest'anno. Il progetto Esplorare è nato nel 2022 da un'idea di Farmalex Sencora insieme alla società scientifica Esplorità Italy Rom Chapter. Abbiamo unito una serie di spunti e di domande di ricerca che avevamo e abbiamo costruito questo progetto che, come dice il titolo, punta a esplorare il mondo delle malattie rare partendo da una prima considerazione che è quella del... se la scienza ci mette a disposizione delle opportunità terapeutiche, il sistema deve velocizzare quanto più possibile il percorso che rende queste terapie accessibili. Quindi la prima edizione abbiamo avuto un punto di vista osservativo, quindi siamo andati a vedere quanto tempo ci mettono i farmaci per malattie rare ad essere approvati dalle nostre agenzie regolatorie e perché potrebbero metterci anche più tempo magari rispetto a farmaci tradizionali pur avendo magari... dando risposta a un bisogno terapeutico più elevato e abbiamo visto che in questo percorso ci sono diverse incertezze che sono date dalla natura delle malattie rare, dalla tipologia di farmaci e di studi clinici sottostanti. Il primo a esplorare ha avuto un approccio osservativo e da questo ci siamo chiesti cosa fare. Come secondo step è nato il secondo progetto a esplorare che ha voluto dare un taglio più di governance, quindi siamo andati a costruire un horizon scanning per andare a vedere effettivamente quali potrebbero essere i farmaci in arrivo per malattie rare, che tipi di criticità possiamo già vedere che potrebbero rendere più complessa la valutazione e dall'altra parte quale impatto di spesa potrebbero generare e per rispondere anche alla domanda cosa il sistema si deve trovare a gestire per poter dare una risposta terapeutica ai pazienti. Ne è nato un bellissimo report che chi è interessato ad approfondire potrà scaricarsi dal link evidenziato qui a fianco dell'intervista. Ecco volevo però chiedere come è stato organizzato se ancora Farmalex ha avuto chiaramente un ruolo di primo piano non solo nell'ideazione ma anche proprio poi nella gestione dei gruppi di lavoro. Come hanno lavorato questi team e chi ne ha fatto parte? Sì allora il progetto effettivamente come potrà vedere chi leggerà il report è stato costruito con una metodologia anche di lavoro di gruppo quindi abbiamo identificato le domande di ricerca a cui volevamo rispondere e costruito due gruppi di lavoro che si sono concentrati nel capire primo come metodologicamente affrontare quella domanda quindi quali fonti informative con che modello di lavoro e poi hanno iniziato a lavorare su dei primi risultati per poi rivederli insieme commentarli, modificarli ed eventualmente poi produrre un risultato finale che ciascun work stream si è sentito poi di effettivamente pubblicare a cui dare visibilità. Dei work stream hanno fatto parte persone della consulenza di Sencola Farmalex, persone dell'industria di società scientifiche come ISPO Italy Rome Chapter che è stato collaboratore sul progetto ma anche per esempio di SIFO attraverso una presentanza di SIFO giovani. Quindi sono stati gruppi di lavoro multidisciplinari che hanno unito non solo lo sforzo concettuale ma anche veramente diverse competenze. Abbiamo anche avuto il supporto di alcuni clinici che ci hanno fornito alcune risposte che non riuscivamo a trovare diversamente. Si sono riuniti diverse volte con degli appuntamenti cadenziati anche abbastanza stringenti e anche insomma abbastanza impegnativi però il risultato finale ci ha dato veramente molta soddisfazione perché è stato uno sforzo collettivo impegnativo. Tutto per traguardare anche un risultato interessante in un tempo breve e controllato che penso sia la sfida più grossa. Senta, state già pensando a esplorare 3.0? Stiamo pensando a esplorare 3.0 perché proprio presentando anche i risultati di oggi sono venuti fuori tantissimi nuovi spunti, domande di approfondimento anche dalle istituzioni stesse che oggi ci hanno detto bel lavoro ci piacerebbe anche qualcos'altro e quindi lanceremo brevissimo la terza edizione.